Immaginate una scampagnata a un gruppo di turisti con magari bimbi al seguito. Ecco lo spettacolo che si sono trovati davanti agli occhi a poche centinaia di metri dal rifugio di Val Formica, mucche sbranate dal lupo. L'interiora sull'asfalto, il sangue, animali della Malga Larici di sotto. Il proprietario ha deciso in queste ore di riportare a Valle Le Manze la preoccupazione di subire ulteriori perdite economiche altissime. A Sasso di Asiago intanto ha avvistato un branco di almeno quattro lupi, probabilmente sono gli stessi che hanno divorato uccidendole 11 pecore. Il presidente dell'Associazione Allevatori Veneti De Franceschi in queste ore ha lanciato l'ennesimo appello al governo. Chiede di poter utilizzare proiettili di gomma contro i lupi e dice, visto che la legge sulla legittima difesa prevede l'attuazione del suo esercizio anche dinnanzi al solo pericolo di offesa, io credo sia giunto il momento di allargare il principio anche ai grossi predatori. De Franceschi continua, i lupi stanno cagionando un danno non solo economico ma anche alla solidità delle aziende agricole mettendole in pericolo e vanificando anni di lavoro e di investimenti. Non parliamo poi dell'incolumità degli allevatori e delle loro famiglie che quotidianamente si trovano faccia a faccia con questo predatore.